Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano i nuovi arresti per gli appalti della Regione Puglia. La Guardia di Finanza ha eseguito delle ordinanze di custodia cautelare per un funzionario e un imprenditore. Le indagini rientrano nel filone che coinvolge il dirigente della sezione Economato ed ex responsabile della protezione civile Mario Lerario. Due presunte mazzette per un totale di 35 mila euro. L'aggiudicazione di nove appalti tra il 2019 e il 2021 per un importo complessivo di 2 milioni e 283 mila euro. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del funzionario della Regione Puglia Antonio Mercurio e dell'imprenditore baresi Antonio Luzzi per corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Questa indagine si collega al filone che aveva già portato all'arresto di Lerario e di altri due imprenditori. Secondo l'ipotesi accusatoria accolta dal giudice per le indagini preliminari, l'escamotage che sarebbe stato adottato per aggirare la normativa sarebbe stato quello di frazionare artificiosamente i lavori e senza rispettare così il principio di rotazione degli operatori economici. In alcuni casi le somme pagate all'imprenditore sarebbero state senza alcuna giustificazione superiore anche a quelle oggetto di aggiudicazione. Inoltre sarebbe emersa l'ulteriore ipotesi di reato di falsità materiale in atti pubblici secondo l'ipotesi commessa in concorso tra l'imprenditore e il dirigente della sezione economato Mario Lerario e dallo stesso Mercurio attestando fittiziamente una somma relativa a lavori compiuti precedentemente nel Palazzo dell'Agricoltura su altri interventi realizzati invece nel Palazzo della Presidenza della Giunta regionale. Nell'ordinanza della GIP Anna Perrelli sarebbe stato evidenziato il rapporto diretto e confidenziale tra l'erario Mercurio e il Luzzi necessario per portare avanti le condotte criminose. Lunedì prossimo l'audizione preliminare in prima commissione insieme ad Ance e l'Associazione Nazionale degli Edili. Torniamo sull'acquisto da parte della Regione Puglia dei crediti fiscali delle aziende pugliesi oggetto questa delle tre proposte di legge. Allora ascoltiamo. Il prossimo passo è quantificare i numeri dei crediti fiscali eventualmente da acquisire e proprio questo numero, ovvero similmente molto alto, potrebbe essere già il primo problema della questione. Ma si va avanti nel ragionamento. L'acquisto dei crediti delle imprese pugliesi legate al 110 da parte della Regione Puglia potrebbe davvero diventare un tocca sana per aziende e famiglie rimaste incastrate dopo la chiusura dei rubinetti da parte delle banche. A spiegare il meccanismo pensato nella proposta di legge azione PD è il consigliere regionale Fabio Ramati. Subito in commissione e poi in aula è la nostra speranza. Le sue parole. Ora bisogna capire però quanto ammontano i crediti fiscali delle imprese, ovvero dei cittadini e cioè se quelli della Regione sono in grado di coprire interamente i crediti vantati fiscali per il superbonus 110 o meno. E questa è una valutazione che sarà fatta nel corso dell'esame delle proposte di legge perché la dimensione numerica ci darà anche l'opportunità di capire se eventualmente dobbiamo in qualche modo restringere il campo oppure utilizzare dei criteri più specifici. Questo è l'argomento centrale del percorso di approvazione della legge. Quale sarebbe dunque la procedura? La procedura sarebbe che la giunta regionale predispone una delibera con la quale indica tutti i criteri e poi attraverso una convenzione con gli istituti di credito, comunque con tutti quelli che potrebbero teoricamente essere interessati a consentire questa attività negoziale di passaggio del credito, realizzare appunto un contratto di passaggio del credito e la Regione lo mette in compensazione con riferimento alla sua imposizione fiscale a valere per esempio su tutto il personale. Ma abbiamo anche compreso in questa operazione pure le società controllate, collegate, le ASL, insomma per aumentare sempre più la capacità fiscale messa a disposizione. E si è chiuso a Bari il road show di Intesa San Paolo, imprese vincenti, il programma dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane. La tappa bariese si è concentrata sul welfare, 10 le imprese pugliesi selezionate che si sono distinte investendo sulle persone. Sentiamo l'intervista al direttore regionale di Intesa San Paolo, Alberto Pedroli. Direttore, conta il modo di fare impresa e contano le idee vincenti in questo road show? Assolutamente, abbiamo raccolto veramente un numero impressionante di candidature, è stato difficile scegliere in dettaglio. Una filigrana che ha avuto una grande importanza è l'attenzione alle persone. Le persone sono portatori di competenze, di esperienze e scostituiscono il vero catalizzatore della sostenibilità nel lungo periodo dell'impresa. Lei ha detto che non si vedono ancora gli effetti del PNRR realmente e le chiedo anche che tipo di vivacità ha mossa la Puglia imprenditoriale. Il PNRR non è ancora del tutto a terra e soprattutto non hanno avuto ancora una ricaduta sulle imprese pugliesi, tenendo presente che mediamente l'impresa del sud è un pochino più piccola rispetto all'impresa del nord, quindi magari non è il primo committente di un contratto diretto PNRR, però le ricadute le avremo sicuramente. La Puglia è effervescente perché è uno dei grandi crogioli dell'innovazione e per innovazione intendo creazione di start-up, creazione di PMI innovative e credo che sia percentualmente sul numero di imprese forse la prima o la seconda in Italia, quindi davvero da questo punto di vista il sistema però è particolarmente fecondo. Abbiamo delle università che sono tra le prime università in Europa, non in Italia, in Europa. Abbiamo ospite il rettore del Politecnico, ne cito una, ma anche l'Università di Bari, l'Università del Salento, sono università sicuramente molto importanti e molto reputate e questo ovviamente è un sostrato culturale alto negli studenti, nelle persone che si laureano in questi Atenei, poi costituisce davvero un grandissimo fattore di accelerazione. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it ci colleghiamo con Tiziano Tridente. Ciao Tiziano, bentrovato. Sì, buon pomeriggio serena dal nostro sito. Un aggiornamento importante su un tema particolarmente caldo, quello dei lunghi tempi d'attesa per il rilascio di un passaporto. Bene, dopo le numerose polemiche comuni in verità in tutta Italia, la Questura di Bari comunica l'apertura straordinaria dell'ufficio di Via Murà per tre giornate in cui gli operatori potranno acquisire le istanze. Le date sono quelle di sabato 11 febbraio, sabato 4 marzo e sabato 25 marzo. Cambiamo argomento e ci sposteremo a Iapigia, dove sono in corso i lavori di potatura degli alberi che ombreggiano i marciapiedi di Via Caldarola e Via Peucezia. Questa manutenzione necessaria è fortemente richiesta dai residenti, spiega il Presidente di Municipio Leonetti, donerà un aspetto migliore alle strade e aumenterà la sicurezza delle stesse, soprattutto nelle ore notturne, dove le folte chiome ombreggiavano i corpi illuminanti. I lavori nel quartiere dureranno alcune settimane. Restiamo in tema green e chiudiamo spostandoci in Via Campione, dove è in preparazione l'operazione Verde Caos. Si tratta di un'iniziativa della comunità che ruota intorno al parco Gargasole. Sabato mattina si ritroveranno proprio in Via Campione, ad angolo con Via La Barbuta, per riportare all'antico splendore un'area verde recuperata nel 2011 dai volontari e oggi, dopo il lockdown, tornata a preda dei rifiuti e del degrado. Budget dell'intervento, sottolineano proprio i volontari, zero milioni di euro, molti milioni di emozioni positive. A te! E grazie a Tiziano Tridente per il prezioso contributo. Noi andiamo avanti, presentata questa mattina in sala giunta, la seconda edizione della Bari Med Marathon. Vediamo. Una corsa per i 22 paesi del Mediterraneo, giunta alla sua seconda edizione quest'anno dedicata all'Albania. Si tratta della Bari Med Marathon e Factory Run, la manifestazione podistica organizzata dalla fabbrica di corsa con il sostegno del Comune di Bari e della Regione Puglia si svolgerà nel capoluogo pugliese in una tre giorni dal 24 al 26 febbraio e vedrà la partecipazione degli atleti in gara a due corse, una competitiva di 21 chilometri ed una da 10 chilometri. Oggi presentiamo una mezza maratona che dentro tiene dentro altre distanze più brevi ma soprattutto attraverso il coinvolgimento anche di aziende che quindi promuovono una sportivizzazione dei loro dipendenti. Il Mediterraneo, patrimonio da salvaguardare e difendere come tutto il pianeta, per questo la Bari Med Marathon ha fatto la scelta della sostenibilità e della responsabilità ambientale e sarà la prima corsa in Italia totalmente ecosostenibile e plastic free. Abbiamo fatto una ricerca per un prodotto per eliminare le bottiglie di plastica e i bicchieri di plastica dai percorsi per rendere più sostenibili gli eventi. Ci siamo riusciti, vi posso solo anticipare che non è plastica ma è alga marina e si può anche mangiare perché è un prodotto edibile. Questa maratona è riconferma dei nostri splendidi rapporti tra i due paesi, in particolar modo tra la Puglia e l'Albania e dal mio punto di vista è una riconferma anche dell'importanza della dimensione internazionale della città di Bari e questo vuol dire molto per noi. E ci spostiamo adesso nella BAT dove il turismo cresce grazie anche alla cultura, spesso al femminile, che finalmente ha trovato ampi spazi di narrazione e sistemi di accoglienza efficaci. La Puglia parla sempre di più al femminile? Sì, è così, è una regione che sta dando molto spazio sia in campo culturale che anche negli altri settori. In questo in particolare abbiamo visto con Lolita Lobosco quanto clamore e quanta attenzione c'è per la nostra Puglia che speriamo si traducano poi in numeri importanti per la prossima estate. Puglia ci sta aiutando con la propria campagna pubblicitaria e con i servizi che sta dando ai turisti. Quindi sicuramente i numeri sono importanti però bisogna fare in modo che quei numeri possano essere crescenti e stabilizzati e lo si può fare soltanto attraverso la proposizione di offerta culturale che sia in grado di meravigliare i turisti e dare anche dei servizi che siano in grado di far sentire accolti i turisti che vengono in Puglia. Lei consigliera ha rimesso al centro della Puglia la BAT che generalmente soccombeva rispetto alla Valle d'Itria. Questo è un grande risultato? Sì, devo dire che il fatto di essere delegata da Cultura mi dà la possibilità di dare voce al nostro territorio. In realtà gli eventi si sono sempre svolti, gli operatori culturali hanno sempre avuto un grande affare sul nostro territorio. forse adesso grazie alla mia presenza e al fatto che io possa comunicare quello che avviene sul nostro territorio fa sì che l'attenzione ci sia anche per la BAT. Gli operatori del turismo di Castellana confronto con l'amministrazione comunale su bisogni e proposte del settore dell'accoglienza. La recettività turistica di Castellana più efficace ha anche in relazione a migliori infrastrutture come la fibra internet e la manutenzione delle strade quanto emerso nel primo incontro di imprese e attività dell'accoglienza con la nuova amministrazione comunale della città delle grotte che si conferma tra le mete più gettonate della Puglia per permanenza e per notamenti. Chiediamo dei collegamenti migliori, quindi diciamo trasporti pubblici più efficienti dal Castellana alle grotte e viceversa, quindi generare proprio un turismo anche più sostenibile di creare e progettare nuove aree ciclabili, avere la possibilità anche di usufruire in orari più ampli dell'apertura delle chiese, l'apertura dei nostri luoghi più attrattivi un apparato informatico più moderno, quindi attraverso la fruizione di applicazioni o piuttosto di informazioni più precise. Dal canto suo l'amministrazione comunale ha lavoro per valorizzare e rafforzare l'identità di Castellana che non è solo grotte. Incrementare sicuramente il turismo sulle grotte ma portare anche il turista a visitare il nostro centro storico, a stazionare nel nostro paese, usufruire di tanti servizi che Castellana profili, ma soprattutto raccontare le nostre storie, le nostre origini, quindi un turismo che possa essere più esperienziale per il turista. Andiamo ora in Capitanata, precisamente a Lucera, dove la sezione del locale dell'Avis compie 35 anni, rafforzando sempre più il legame con il territorio e avvicinando tanti giovani alla donazione del sangue. L'Avis di Lucera compie 35 anni e celebra l'anniversario con una tre giorni di festa in programma dal 10 al 12 febbraio nella città federiciana. Eventi e incontri che chiameranno a raccolta i soci e vedranno la presenza, tra gli altri, del presidente di Avis nazionale, Gian Pietro Briola, del presidente regionale, Raffaele Romeo e del presidente provinciale, Vincenzo Minischetti. Già nel rapporto 2021-2022 abbiamo ottenuto 130 sacche in più rispetto a quelle del passato e abbiamo riscontrato che si sono avvicinati molti giovani alla raccolta del sangue, grazie alle chiamate, alle raccolte straordinarie che abbiamo fatto nelle varie location che abbiamo avuto a disposizione sia dalle parrocchie oppure dall'amministrazione. È stata una bella cosa. Il 35esimo compleanno dell'Avis di Lucera sarà anche l'occasione per guardare il futuro dell'Avis con gli occhi dei giovani. Infatti, venerdì 10 e sabato 11 febbraio, nei locali del Circolo Unione di Lucera, si terrà il meeting dei giovani avisini con la partecipazione di oltre 50 under 35 provenienti dalle sezioni Avis della Puglia che costituiscono il presente e il futuro di un'associazione che non vuole smettere di crescere. E nella chiesa della Madonna del Carmine a Taranto l'inaugurazione della mostra dedicata alla Settimana Santa. Ha preso il via nel foyer del Teatro Fusco di Taranto il progetto religioso Facis Passionis, i volti della passione. Poco dopo l'arcivescovo Filippo Santoro ha inaugurato nella vicina chiesa del Carmine la mostra che raccoglie le più belle statue raffiguranti la passione di Cristo che vengono portate in processione durante i riti della Settimana Santa. Le statue provengono da varie cittadini pugliesi, calabresi e siciliane e tra queste ci sono anche statue che provengono da Carbonara di cui l'arcivescovo è nativo. Della cittadina barese era presente il presidente del municipio 4, Albergo Grazia, che abbiamo ascoltato. Presidente, quali emozioni prova al cospetto di queste statue che rappresentano la passione di Cristo? È un'emozione molto forte anche perché il municipio 4 che io rappresento ha qui esposti tre simulacri che provengono da Ceglie, Lo Seto e Carbonara. È molto bello perché è un itinerario questo che coniuga bene fede, cultura ed arte e credo che siamo di fronte alla bellezza che si incarna e si declina attraverso vari linguaggi. Quindi sono molto contenta e sono orgogliosa di essere qui. Eccellenza, avere qui una rappresentanza di Carbonara è motivo di gioia per lei? Sono veramente contento. Sin dall'inizio, quando è cominciata, ho visto la loro partecipazione assidua, proprio perché dove ci sono delle eccellenze come qui a Taranto sono bene accolte tante altre opere che arricchiscono la fede popolare della nostra terra, della terra di Bari, della terra di Puglia ed è come un incentivo a rispettarli, a farle crescere, a farle diventare vera espressione di fede, di cultura e di solidarietà come dicevo oggi. E noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it radiobari.net. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il ciclone mediterraneo attivo sulla Sicilia tenderà ad allontanarsi verso sud, favorendo quindi un graduale e lento miglioramento, favorito anche da questo campo anticiclonico di origine azorriana che tenderà poi a invadere il nostro paese, riportando quindi a un aumento delle temperature. Osservando la grafica della nuvolosità notiamo come al nord ancora una volta e gran parte del centro avremo condizioni asciutte e soleggiate, mentre la nuvolosità insiste ancora al sud con maltempo residuo proprio sulla Sicilia e sui settori ionici. Infatti osservando lo zoom delle precipitazioni notiamo come ancora piogge nelicate tenderanno a insistere proprio sulla Sicilia, a specie del versante ionico, fenomeni talora abbondanti ma che andranno comunque esaurendosi con l'andare del giorno. Più nel dettaglio quindi della previsione che ci attende nel corso di venerdì avremo una giornata stabile e soleggiata su molte nostre regioni, mentre il maltempo continuerà ad insistere soprattutto nella prima parte della giornata sul comparto ionico siciliano, quindi tra Ragusano e Siracusano, una ventilazione ancora molto intensa e mareggiate lungo le coste più esposte ma con la tendenza poi a un miglioramento. Le nevicate continueranno comunque ad essere presenti a partire da quote collinari o di bassa montagna. Per tutti i dettagli comunque consultate l'app di TrebiMetri.